Sorpreso con la refurtiva ancora nel sacco dopo aver rubato in pieno giorno in una scuola primaria del quartiere Sacra Famiglia a Padova. Un uomo di 42 anni è stato arrestato ieri dai carabinieri in via Siracusa, mentre si muoveva a confare sospetto nelle vicinanze del plesso scolastico, aperto in questi giorni in vista del rientro a scuola mercoledì. Nello zaino della 42enne i militari hanno trovato grimaldelli e chiavi per lo scasso, oltre agli effetti personali, telefoni e portafogli. Insospettiti sono entrati a scuola e hanno scoperto che tutti gli armadietti del personale e degli insegnanti erano stati scassinati. Il 42enne senza fissa di mora è stato così arrestato per furto e tutta l'area furtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.